Musica In compagnia di Francesca Fanti che è una ricercatrice dell'Ecole Universitaire che abbiamo prima già ascoltato nella persona del Presidente Sabrina Magris, anche Francesca è intervenuta in questo convegno sulle polizie locali nell'ambito del terrorismo, se non sbaglio è stata la prima dei relatori a parlare. Parlando di una cosa importante, una cosa su cui vorrei soffermarmi in questa intervista, l'importanza delle azioni di prossimità come deterrenza è in pratica la funzione di prevenzione. Io penso che in Italia in qualsiasi campo del rispetto di qualsiasi tipo di norma, che siano le norme di tipo amministrativo, fino a quelle penali, codice della strada, eccetera, non si faccia un'adeguata prevenzione che servirebbe a ridurre poi l'azione repressiva. a mio parere. Ecco, questa è una cosa molto importante, vorrei che specificassi un pochino meglio quello che tu intendi con questa attività di deterrenza. Quando parliamo di prevenzione molto spesso possiamo accostarlo al termine semplice di osservazione, l'osservazione che molto spesso, se lo è e se è consapevole, può portare a monte ad evitare un problema che può essere un attacco terroristico, quanto anche una gestione pratica quotidiana che può provocare delle problematiche. Per questo si intende prevenzione, poi chiaramente agisce a più livelli e su più piani l'osservazione di certi gruppi specifici della popolazione che possono essere giovani a rischio piuttosto che popolazioni di etnie particolari con cui non si intrattiene magari un giusto rapporto e per questo appunto che entra anche l'utilizzo e l'obbligatorietà di sfruttare la psicologia etnica come risorsa sia per l'operatore quanto poi anche per altre figure professionali che chiaramente sono necessariamente portati ad agire sul campo, sul territorio, sulla strada piuttosto che sul singolo quartiere essenzialmente. Quindi prevenzione in più senso, lo abbiamo visto anche su un altro piano, purtroppo vedendo diversi casi di attacchi terroristici anche statunitensi dove una prevenzione, anche un occhio quindi più mirato a certi comportamenti che potevano mostrare un escalation di devianza o in questo caso di terrorismo come nel caso per esempio di foto postate su vari social che chiaramente erano aperte e quindi che potevano essere visti da tutti, potevano dimostrare nel singolo soggetto, chiamiamolo l'ulopo solitario o chiamiamolo in un'altra maniera, potevano essere sfruttate per prevenire un eventuale attacco piuttosto che chiaramente le morti che sono accadute anche specialmente negli ultimi mesi. Prima del convegno parlavamo di questo concetto l'ulopo solitario, che è stato oggetto di tuoi studi se non sbaglio hai anche scritto su questo, anticipando anche un po' i tempi, bisogna rendere onore a questa cosa. Sì, essenzialmente il lavoro di ricerca fatto sul lupo solitario partiva dal presupposto che ci sono state diverse ricerche e soprattutto diverse categorizzazioni di questo fenomeno che chiaramente devono essere spendibili per l'operatore, che sia quello di polizia locale piuttosto che di agenzie di informazione eccetera. La numerosità di queste categorie faceva sì che però nell'immediatezza dell'attacco quando avveniva e si doveva identificare il soggetto piuttosto che rintracciarne le principali credenziali o caratteristiche diventava complesso gestirsi di fronte a tutta una serie di numerose possibilità e chance di individuarlo. Quindi la ricerca si basava sulla ricerca di un percorso più semplice e più immediato di identificazione dei soggetti. Per questo motivo durante la ricerca si sono arrivati a dividere due grandi gruppi di soggetti. Da un lato il lupo solitario puro inteso come tutti quegli individui che per emulazione e per bisogno di riconoscersi e farsi riconoscere dagli altri e di comunicare la propria esistenza e anche di rivalutazione di se stessi decidono di agire o comunque di comunicare i loro intenti criminali e terroristici quindi non necessariamente sfogandosi poi nell'attacco in sé e dall'altra parte invece quel tipo di lupo solitario che per forza di cose si è accostato al nuovo modo di fare terrorismo con ISIS piuttosto che con altri gruppi terroristici molto famosi. La peculiarità del lupo solitario strutturato è che si compone di tutti quegli elementi che non avremmo mai creduto come l'agire in branco. Per definizione crediamo che il lupo solitario sia da solo e abbiamo visto anche a Parigi a novembre all'attacco al Bataclan che erano più soggetti che addestrati seppure in maniera bozzata e rozza a un certo tipo di guerriglia e che hanno agito in gruppo in branco anzi magari compiendo degli atti di micro criminalità quindi essendo magari in qualche maniera attenzionati da parte delle forze dell'ordine piuttosto che alle forze dell'intelligence ma non facendo rintracciare quel filo rosso che li collegava e che quindi dava loro la reale forza dell'attacco terroristico e chiaramente dell'impatto mediatico che poi ha avuto. I risultati di questi lavori sono disponibili in qualche modo e dove disponibili? I risultati di questa ricerca specifica sono pubblicati all'interno del manuale il lupo solitario nell'evoluzione terroristica che è disponibile come diceva anche la dottoressa magri spocanzi sul sito dell'euiedizioni.net quindi www.euiedizioni.net Grazie a Francesca Fan Grazie a Francesca Fan